Cecilia Rodriguez, Monte ha una nuova fidanzata? Ecco cosa ne penso Francesco Monte ha una nuova fidanzata? La reazione di Cecilia Rodriguez. Francesco Monte ha trovato una nuova fidanzata? Il gossip circola da qualche giorno ma per il momento il diretto interessato preferisce tenere la bocca chiusa. Il Tarantino non conferma ma neppure smentisce. . Al posto suo ci ha pensato Cecilia Rodriguez che, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Vero, ha parlato della possibilità di vedere l'ex fidanzato accanto ad un'altra. . Una prospettiva che non sembra preoccupare più di tanto la sorella di Belen, anzi. . La concorrente del grande fratello Vip vuole ancora molto bene all'ex tronista di Uomini e Donne e spera di vederlo felice e sorridente. . . Soprattutto perché l'ultimo periodo non è stato facile per Francesco, che ha subito un crollo psicofisico a causa dell'eccessivo stress. . . Le ultime dichiarazioni di Cecilia su Francesco. . 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 La più piccola dei Rodriguez ci ha tenuto a ribadire per l'ennesima volta che la relazione con il Tarantino non funzionava più a causa di molteplici divergenze. Ci ho creduto tanto in questo amore, ma avevamo modi diversi di vedere la vita. Mi ero abituata al suo modo di essere, credo di essermi annullata per amore di Francesco. Cecilia Rodriguez, la relazione con Monti non funzionava. Molte cose nella nostra relazione non funzionavano. Nella casa ho avuto modo di riflettere e capire quali erano e, soprattutto, ho potuto comprendere cosa cerco e cosa non voglio in una storia d'amore ha chiarito Cecilia Rodriguez. Archiviata la storia con Francesco Monte, la modella è ora felice accanto a Ignazio Moser, i due hanno conosciuto le rispettive famiglie e la storia si fa sempre più solida giorno dopo giorno. .